Ospite dei nostri studi lo ringraziamo per aver raccolto il nostro invito Giuseppe Bono che è un giovanissimo scrittore che ha esordito, possiamo dirlo, nella letteratura con un libro edito dal nostro collega Calogero Parlapiano della Melkart Communication che si intitola Il grande impero africano, vedete peraltro la cover dietro le spalle del nostro ospite. Giuseppe è uno studente naturalmente, frequenta il primo anno del liceo classico, come si chiama il liceo? Don Bosco Ranchibile di Palermo, figlio di un caro amico saccense, ma è un mezzosangue, mezzo saccense, mezzo palermitano. Questo per così fare una premessa, una premessa che è interessante per tante ragioni, perché noi oggi conosceremo il nostro amico Giuseppe e cercheremo anche di capire come è nata in lui l'idea di cimentarsi nella scrittura, così giovane peraltro, con un testo che è particolarmente impegnativo, perché il grande impero africano contiene all'interno di questo racconto che è stato pubblicato dalla Melkart, diciamo un'idea immaginaria di quello che potrebbe essere la gestione anche politica di una vertenza che è purtroppo secolare, quella che riguarda il continente africano con tutti i suoi problemi. Intanto grazie per aver accolto il nostro invito, vorrei cominciare proprio chiedendoti Giuseppe, ci diamo del tuo, ovviamente anche tu sei autorizzato a farlo, chiedendoti proprio di che cosa parla questo tuo racconto. Questo racconto, questo libro parla appunto di un'ipotetica ripresa dal punto di vista commerciale e politico dell'Africa. Questo continente diciamo che lo posso paragonare a qualsiasi squadra di calcio, anche magari italiana, che magari si trova in divisioni più basse della serie A, ma per storia e per gloria non può. Cioè appunto si trova in divisioni più basse, ma per storia e per gloria meriterebbe di stare in serie A. Infatti l'Africa è un continente appunto di serie B, in quanto è sempre stato sfruttato da paesi che invece sono sempre stati politicamente e dal punto di vista anche economico, ma di livello superiore rispetto appunto adesso. Di paesi che hanno sfruttato le risorse energetiche, anche quelle del sottosuolo, dell'Africa, è una questione di cui si parla da tanto tempo. Come mai ti ha appassionato questo argomento al punto tale da immaginare, poi te lo chiederò, immaginare che cosa, che tipo di realtà, ovviamente purtroppo soltanto nella fantasia al momento. Intanto perché, come mai l'Africa ti ha interessato come tema? Perché l'Africa, a mio parere, è il continente, diciamo, per antonomasia più soggetto a suprusi, appunto, sfruttamenti e suprusi, anche tra i propri abitanti. Infatti tutti i stati che sono, quasi tutti i stati che sono all'interno del continente africano sono soggetti a continue guerre tra di loro, appunto. L'unico... Ci sono tante tensioni, ci sono dittature, guerre civili e quindi non c'è soltanto il paese egemone che può andare lì a sfruttare quei territori, ma ci sono poi pure le guerre intestine all'interno dell'Africa. Esatto, le guerre civili che comunque caratterizzano ogni stato. E tu che cosa hai immaginato in questo tuo racconto come grande impero africano? Cosa significa? Ho immaginato che un uomo di alto carisma abbia preso per le mani prima il suo stato, quindi come appunto crea il Congo, che era la Repubblica Democratica del Congo, che appunto per problemi, per divergenze politiche non era più Repubblica Democratica del Congo, ma appunto monarchia. Lui aveva quindi... lui quindi presiedeva questo stato e dapprima il suo intento era quello di portare la Repubblica Democratica del Congo, quindi il Congo, a diventare uno stato di primo ordine, però poi il suo desiderio si espanse fino a riuscire ad avere sotto controllo tutta l'Africa intera e quindi a poter portare il continente appunto allo stesso livello dell'Europa. Quindi una specie di Stati Uniti dell'Africa, possiamo metterla così, con un intento di riscatto dalle dominazioni, dagli sfruttamenti e quindi anche perché evidentemente tu attribuisci i problemi dell'Africa come lo stesso problema della fame lo attribuisci agli atteggiamenti diciamo egemoni dei paesi più industrializzati del mondo. Quindi il sogno di Giuseppe, raccontato in questo libro, è quello di un continente che finalmente ce la fa e finalmente riesce ad affermare la sua storia anche evidentemente, immagino, non soltanto anche sul piano economico e culturale, no? Esatto, io sogno una ripresa appunto sia economica che sociale da parte di questo continente, una ripresa che deve avere ottime basi per quanto riguarda l'unità, quindi deve essere un continente unito, tutti gli Stati appunto devono essere uniti e appunto per far sì che siano uniti, tutti devono essere sullo stesso livello, quindi stessa economia e quindi magari stesso regime politico. È interessante, qualcuno potrebbe immaginare, ascoltando quello che tu dici naturalmente, questo è un racconto di immaginazione, di fantasia, che sia un pensiero quasi utopistico, ma noi vogliamo immaginare che dall'animo sensibile di un ragazzo di 15 anni venga fuori un'idea come questa e anche un monito a riflettere a quello che, a tutti gli errori che sono stati commessi nella storia recente, anche quella più antica. Tu l'interesse per, immagino, la geopolitica da che cosa ti scaturisci? Perché reputo sia affascinante scoprire ciò che è stato fatto in passato dall'essere umano e ciò che magari è stato prima un determinato continente, per esempio come è stato prima l'Africa e come è adesso. Molte leggende, per esempio, narrano di un'Africa dalla quale sono nati i primi uomini. Infatti molti dicono che dall'Africa è nato l'uomo ed è nato nero. Infatti ciò che mi affascina di più in realtà è vedere il cambiamento sia dell'essere umano sia del suo rapporto verso la Terra, quindi come ha sfruttato la Terra, in che modo l'ha trasformata, se ha creato problemi oppure se l'ha migliorata. E che risposta ti sei dato tu? Che ha creato più problemi di quanto la Terra avesse già di suo. Inevitabile un collegamento con i fatti dell'attualità che credo tu segui anche attraverso l'informazione e i veicoli, soprattutto i device, immagino perché un ragazzo della tua età si informa attraverso internet. È inevitabile il collegamento che io ti posso proporre come un tuo commento, una tua opinione personale sul fatto che molta gente dall'Africa scappa, cerca, e non parlo soltanto della situazione attuale anche nel passato, perché sappiamo che gli insediamenti degli afroamericani sono un esempio, ma anche quelli che sono andati nell'America del Sud. E adesso, da un po' di anni, ci sono le traversate nel canale di Sicilia con tanti approdi dalle nostre parti di gente che evidentemente non è che se ne va perché non ama la sua terra, ma probabilmente ha bisogno di pensare ad un futuro migliore per sé e per i propri figli. Qual è la tua opinione sulle scene che vediamo tutti i giorni e anche purtroppo sulle tragedie che ci sono state nel canale di Sicilia? Allora, secondo me, appunto, questa situazione può essere benissimo paragonata alla fuga di cervelli che avviene in Italia. Chiaramente non sto mettendo sullo stesso piano le due situazioni, anche perché le gravità sono totalmente differenti. Però si può paragonare perché? Perché mentre dall'Italia magari ci sono molti giovani che vanno via dal proprio paese perché non c'è disponibilità, magari, o magari disponibilità economica, oppure di fatto non ci sono proprio i mezzi per poter conseguire degli ottimi studi e quindi vanno in Europa. La cosa invece che fanno gli africani consiste nel scappare dal proprio paese per necessità, proprio per quanto riguarda la propria sopravvivenza, perché infatti molti scappano dall'Albania, molti scappano magari dalla Libia e si ritrovano ad approdare nel nostro stato, appunto, lo stato italiano. Molti cercano di ricongiungersi con i parenti che sono venuti prima nel corso del tempo, quindi approdano in Italia perché Lampedusa è la porta dell'Europa, però vanno alla ricerca dei loro parenti e non sono necessariamente in Italia, possono essere in Norvegia, in Germania, negli altri paesi europei. Ecco, c'è questa idea un po' così approssimativa di chi dice che siamo invasi da queste persone che arrivano dall'Africa. Sì. In realtà sono interessate ad andare a ricongiungersi con i loro parenti. Vogliono andare, esattamente, vorrebbero andare dai propri parenti, però a parer mio ci sono secondo me più persone che vogliono invece piantare radici in Italia piuttosto che andare a cercare altri parenti. Perché secondo te c'è una parte della società che teme questo fatto? Perché temono, secondo me temono che queste persone provenienti dall'Africa possano avere più diritti rispetto alle persone che sono residenti in Italia. Infatti uno degli espedienti più, diciamo, che può più influenzare i nostri cittadini, a parer mio, è Matteo Salvini, il quale dice per primo, prima gli italiani, che è il suo slogan praticamente. Che è un po' però approssimativo, perché non è tutta la verità quella che viene fuori dal punto di vista del confronto politico. Tu segui molto l'informazione, ci dicevi, no? Sì, perché seguono alcuni profili che appunto fanno vedere ciò che succede attraverso magari articoli. Più che altro perché su Instagram si possono mettere delle storie, si possono anche prendere i post, che sono appunto ciò che vai a pubblicare poi nella piattaforma, e c'è la funzione di poterle mettere nelle proprie stories. È da lì principalmente che io vado a prendere i relativi post a cui poi sono collegati i diversi fatti di cui si tratta. Devo chiedertelo, ti piacerebbe andare in Africa quando sarai più grande, avere questa opportunità di conoscere questi luoghi? Naturalmente ci vorrebbero tante vite per poter conoscere tutta l'Africa, però ti piacerebbe andare a visitarla? Sì, mi piacerebbe magari andare a visitare questo continente che io reputo molto interessante, anche perché appunto ci sono molte risorse che da sempre vengono sfruttate, anche perché appunto l'Africa non solo è vasta ma è anche varia del resto. Sappiamo che appunto ci sono gli ambienti della savana, il deserto. È sicuramente molto interessante e mi piacerebbe andarci un giorno magari. E per quanto riguarda il tuo interesse letterario, dopo questo racconto hai pensato a qualcos'altro, anche un altro racconto diverso? Sì, ho pensato a qualcos'altro e stavolta mi piacerebbe concentrarmi sul mio paese e su quelli che sono i suoi problemi. Mi piacerebbe poter analizzare meglio quali sono le sue problematiche, trattarne anche non solo a livello letterario, quindi narrativo anche magari, ma anche a scopo di denuncia per mettere, appunto, per mandare a galla, quindi ciò che appunto non va bene. Che non funziona. Esatto. Quindi parli dell'Italia, come il tuo paese intendi questo. Ci puoi anticipare qualcosa, senza entrare troppo nel dettaglio magari, per non spoilerare come dite voi ragazzi. Principalmente questo prossimo libro tratterà di una rivolta, possiamo dire, ripresa italiana verso quelli che sono appunto i principali problemi. Collegata però a questa ripresa italiana da parte dei cittadini c'è il Covid. Covid che la vicenda appunto si svolge nel 2020 barra 2021 ed è una vicenda in cui appunto all'inizio il Covid ha martoriato appunto tutta l'Italia, ma nel novembre del 2021, quindi a cavallo dell'anno 2022, il virus viene debellato. Ciò che accade prossimamente però è molto più catastrofico rispetto a quello che è il Covid in sé, ovvero una guerra civile. La sensazione, da quello che tu ci anticipi, è che sul piano proprio sociologico l'Italia non uscirà migliore dopo il Covid. Qualcuno dice che ne usciremo migliori, ma se immagini nel tuo racconto naturalmente una guerra civile, significa che non usciremo migliori. Però non sarà una guerra civile duratura, piuttosto sarà abbastanza breve, perché lo Stato scenderà a compromessi ancora una volta, ma stavolta per il bene del Paese. Quindi per questo motivo poi si va a istituire il referendum. L'idea che tu mi dai è quella di puntare su alcuni temi apparentemente provocatori, con un'impostazione anche narrativa provocatoria, per attirare l'attenzione della società nei confronti di problematiche che sono reali, che esistono tutti i giorni, dall'Africa oppure quella che tu stai dicendo adesso di un Paese come l'Italia che ha qualche contraddizione, ma che comunque appartiene diciamo all'alveo dei Paesi più moderni, più avanzati. Di fatto appunto la guerra civile perché si scatena? Perché i cittadini non solo sono stanchi di come lo Stato ha gestito il Paese negli anni, ma soprattutto per come il Paese ha gestito la pandemia. Quindi tutti gli eroi che sono stati commessi, sia dal governo precedente quindi di Conte, sia dal governo attuale. Dal governo attuale. Quindi tu sei molto informato su tutto quello che succede? Sì, sono abbastanza informato anche perché mi interessa molto di questo Paese, essendo io praticamente molto patriottico. Questa è una bella cosa quella che hai detto. Ecco volevo chiederti, posso chiederti le tue materie preferite a scuola quali sono? Allora, le mie materie preferite sono l'italiano e il latino, con un occhio di riguardo anche alla geostoria e tutto quello che riguarda l'ambito narrativo. Com'è venuto questo libro? Ti è piaciuto? Perché tu l'hai scritto, ma poi tu sai che quando poi hai in mano il libro e lo sfogli ti rendi conto, magari ti domandi, ma queste cose l'ho fatto io questo lavoro. Che tipo di impressione ne hai ricavato? Allora, rossendo di poi posso dire che comunque, nonostante questo libro sia stato fatto l'anno scorso, quindi comunque ero più piccolo, è estate, quindi posso dire che comunque è uscito bene, è uscito un buon lavoro. Si è soddisfatto. Sì, anche posso dire che è stato un lavoro molto dettagliato, però non mi ha tolto tanto tempo, devo dire. Io mi ricordo che scrivevo questo libro negli intervalli che c'erano fra una videolezione e l'altra, quindi finiva la lezione d'italiano e in quei 15 minuti che avevo di, diciamo, riposo, io scrivevo. Ti rilassavi scrivendo? Esatto. Ecco, tu ci stai ponendo e voglio avviarmi anche alla conclusione di questo nostro incontro. Ci poni la questione che ha riguardato voi ragazzi alle prese con la cosiddetta famigerata DAD, la didattica a distanza, in un mondo in cui, diciamocelo pure, non c'erano stati dei precedenti, per le nostre generazioni quantomeno no, perché magari non si è capito come si poteva affrontare questo Covid, allora sono nate le lezioni a distanza. Ecco, voi, soprattutto giovani, avete perso un po' questa fase, è stata molto delicata per voi, perché avete perso sostanzialmente due anni della vostra vita, voi siete giovanissimi. Come l'hai vissuta tu, personalmente? Beh, è stato difficile anche perché quelli come me, quindi nati nel 2006, che hanno dovuto affrontare quest'anno il primo anno di liceo, sicuramente è stato difficile, perché le relazioni sono state limitate e anche l'apprendimento stesso è stato limitato. ed è stato molto difficile comunque proseguire il percorso scolastico rimanendo in presenza, infatti ci sono stati dei momenti in cui dovevano stare in DAD, per esempio, per due settimane e facendo appunto la DAD era molto difficile seguire, anche perché stando a casa ci sono molte distrazioni che comunque ti fanno in modo che la tua attenzione non... Quindi l'auspicio è che si ritorni definitivamente alle lezioni in presenza, alcuni mesi fino alla fine dell'anno scolastico sono state in presenza le lezioni, anche se al 50%, al 75%, speriamo che a settembre con questa campagna vaccinale le cose prendano la piega definitivamente corretta. Un'ultima cosa, che feedback hai avuto da questo libro, i tuoi amici, i tuoi genitori, che cosa ti hanno detto? Allora, io ho fatto vedere questo libro ad alcuni familiari, ad alcuni miei amici e vabbè, ovviamente anche ai miei amici più stretti. Devo dire che il feedback generale è stato molto buono per quanto riguarda appunto la stesura del testo in sé, quindi come è stato scritto, tutti i particolari che sono stati inseriti, però devo dire che non ho ritrovato, cioè non ho ritenuto questi feedback, diciamo, attendibili, in quanto sia stata sicuramente messa a paragone, messo a paragone ciò che ho fatto con la mia età. Infatti, probabilmente il mio punto di forza, ma anche il punto che può destare più attenzione sul mio libro è che io abbia solamente 15 anni. E questa cosa, diciamo che... Tu questa cosa la consideri un elemento su cui intendi essere razionale, non ti esalti, non ti deprimi, però tieni conto del fatto, tu stesso tieni conto del fatto che hai 15 anni, quindi le prospettive possono essere soltanto di miglioramento per il futuro. Ma tu posso chiedertelo, vorresti fare lo scrittore? Sì, mi piacerebbe molto intraprendere questo tipo di carriera. E quindi come inizio, diciamo, che non c'è male? Diciamo che sì, devo essere contento di questo inizio anche perché non mi aspettavo che venisse così. Sì, mi aspettavo che venisse meno bene rispetto alle mie aspettative. Quindi sei soddisfatto del tuo lavoro? Sì. E questa è una cosa bellissima. Sono molto soddisfatto. Noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, ti auguriamo cose bellissime per il futuro, anche perché un ragazzo di 15 anni che ha questa consapevolezza dei problemi e anche questa capacità di analisi è una bella risorsa per il futuro. Grazie Giuseppe. Grazie a lei. Grazie a lei.